Il Covid si batte con la solidarietà enti locali, istituzioni, associazioni di categorie e sindacati lanciano un patto per aiutare chi ha perso o chi perderà il lavoro a causa della pandemia. Grave incidente in piazza Barzi, un ottantenne perde il controllo della sua jeep e travolge sedi e tavolini di un bar e investe un'anziana coetanea. È grave. Dopo i duri mesi della pandemia riparte l'opera dell'impresa sociale, il girasole che gestisce i servizi sociali per i comuni del distretto di Lecco. Pronti ad aiutare il territorio? Spiega il Presidente. Buonasera a tutti i telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con informazione di Unica. Lecco, un fondo da un milione di euro per sostenere quanti hanno perso il lavoro o lo perderanno a causa del Covid. Tutti gli enti locali, le associazioni di categoria e i sindacati hanno sottoscritto il patto per il lavoro, uno strumento che a partire da settembre darà un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà. Contro il coronavirus c'è il vaccino, contro le ricadute della pandemia c'è la solidarietà. Nasce con questo spirito il Patto Territoriale del Lavoro, un fondo costituito da tutti gli enti locali, dalle associazioni dattoriali, dai sindacati e della provincia di Lecco, insieme alla Fondazione Comunitaria del Lecchese. Scopo dell'iniziativa? Aiutare quanti hanno perso o perderanno il lavoro a seguito della pandemia. I contributi da un minimo di 400 euro a un massimo di 1.400 saranno erogati per essere spesi in generi alimentari, grazie all'adesione anche della grande distribuzione, servizi essenziali per la famiglia, medicinali oppure bollette, rate del mutuo e affitto. È un patto, l'abbiamo voluto chiamare patto e non protocollo, perché sancisce un inteso, un accordo, che vuole andare al di là delle diversità e cercare di non lasciare nessuno indietro, nessuno solo. La solidarietà, come dicevamo sul frontespizio del patto, è l'unico investimento che non fallisce mai. Risolve il problema della questione del lavoro, della disoccupazione, tutto quello che purtroppo noi conosciamo già, dato dalla pandemia, ma vogliamo veramente guardare il lavoro come una occasione, anche di scelta, di formazione, come se fossero dei vasi comunicanti, dove già c'è una storia e c'è un bene lavorativo che continua, deve come arrivare ad essere stimolo e possibilità invece dove ci sono delle difficoltà. Per cui non assistenzialismo, ma una modalità intelligente di guardare alla questione lavoro, che è dentro la famiglia uno dei problemi più grossi del nostro territorio. Il fondo nasce con una donazione di un milione di euro. I comuni hanno garantito un contributo di un euro per ciascun abitante. L'obiettivo è arrivare a due milioni. Grave incidente questa mattina nel centro di Barzio, in Valsassi, in un piccolo fuoristrada, guidato da un 85enne, ha investito un 83enne seduta al tavolo di un bar di piazza Garibaldi. All'origine del sinistro, forse una manovra sbagliata, l'auto in retromarcia ha travolto sedi e tavolini proprio accanto alla statua del leone, prima di terminare la sua corsa contro alcune fioriere. Gravi le condizioni dell'anziana investita sul posto sono giunti, le di soccorso proveniente da Bergamo, un'ambulanza del soccorso centro-vassassina, l'introbio. La donna è stata trasportata all'ospedale di Varese in codice rosso, non ha riportato ferite gravi, invece l'automobilista sotto shock per l'accaduto, a occuparsi dei rilevi del caso, la polizia locale. Ancora cronaca, chi sbaglia paga dopo i due daspo urbani firmati dal questore di Lecco contro due fratelli fra i protagonisti della rissa in città scoppiata il 15 giugno, il prefetto di Lecco avverte. Le indagini proseguono, troveremo anche le altre persone coinvolte. Chi sbaglia paga dopo i due daspo urbani firmati dal questore nei confronti dei protagonisti della rissa scoppiata lo scorso 15 giugno in centro città, il prefetto Castrese De Rosa interviene e ribadisce ai cittadini che leccono nel Bronx e che chi delinque viene sempre perseguito. Di noi l'avevamo detto fin dal primo momento, chi sbaglia paga, quindi ancorché io abbia detto che a Lecco non c'è un far west, non c'è il Bronx, però avevamo anche detto che le forze dell'ordine stavano visionando l'immagine, stavano investigando e quindi dopo questa prima attività che non è affatto conclusa il questore ha erogato i primi due daspo. Questo è un segnale per capire che bisogna stare attenti, che le responsabilità verranno accertate e chi ha sbagliato paga, non ci fermeremo qui, ovviamente che gli accertamenti continuano probabilmente colpiremo anche qualche esercizio pubblico, nelle cui adiacenze si sono verificati questi episodi incresciosi, ma io mi auguro che siano solo gli ultimi provvedimenti che adottiamo che mi auguro che i nostri giovani vogliono vivere questa riconquistata libertà in modo civile come Allecco ha già dimostrato di saper fare. La misura presa nei confronti dei due fratelli di origine quadoregna in pratica si traduce nel divieto di accesso a tutti i pubblici esercizi nel territorio comunale di Lecco per due anni. Per uno dei due fratelli inoltre il divieto è stato esteso a tutti i bar e ristoranti della provincia. Se dovessero essere sorpresi a violare il provvedimento i due rischiano una multa fino a 20.000 euro oltre che la reclusione in carcere. Le indagini proseguono perché possano essere identificati anche gli altri protagonisti della rissa. Tragico epilogo per Stuliano Filippi, il motociclista 29enne di Bellano coinvolto lo scorso venerdì 11 giugno in un incidente stradale a Dervio lungo la provinciale 72. Il giovane da dieci giorni ricoverato a Varese in condizioni critiche ispirato nella serata di ieri a bordo della sua moto, il 29enne aveva impattato contro un camion provocandosi un trauma cranico gravissimo rivelatosi poi fatale nonostante le cure. Familiari e amici piangono oggi la sua scomparsa. Cambiamo argomento, trasformare le difficoltà in opportunità. Questa è stata la sfida dell'impresa sociale Girasole durante i lunghi mesi della pandemia. Ora grazie alla partnership tra pubblico e privato possiamo aiutare il territorio a ripartire dichiara il presidente Carlo Colombo. Appena nata ha dovuto subito fare i conti con la pandemia. L'impresa sociale Girasole, società costituita da 26 comuni dell'ambito distrettuale di Lecco e da 9 soggetti del privato sociale per la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi nel territorio. A pochi mesi dalla fondazione si è trovata ad affrontare gli impronosticabili stravolgimenti causati dal Covid-19 ma ha saputo trasformare le difficoltà in opportunità. È stato un anno e mezzo sicuramente complesso. Noi comunque eravamo una start-up di fatto perché siamo nati a febbraio 2019. È chiaro che il Covid ha stravolto tutto quanto. Ha bloccato per un certo periodo di tempo alcuni servizi essenziali che c'erano. Ci ha costretto a ripensare anche i servizi più tradizionali perché noi entriamo comunque a contatto direttamente degli utenti, delle persone. Vediamo l'unico lato positivo anche di questa cosa. Ci ha anche costretto a mettere in moto dei meccanismi nuovi che ci permettessero di individuare i bisogni specifici di quel momento e che ci permettessero di elaborare anche dei servizi nuovi. Quindi credo che nelle difficoltà è emersa la forza della squadra di tutte le componenti perché io dico che la componente pubblica ci ha messo del suo sostenendo il sociale in un momento di difficoltà. La componente privata ci ha messo tutto il suo ingegno e la creatività nel individuare e elaborare nuovi servizi. Lungo è acceso il dibattito politico che precedette la scelta dei comuni, con in testa il capologo guidato allora da Virginio Brivio, di affidare la gestione dei servizi sociali a un'impresa mista pubblico-privato. Una decisione che si è dimostrata vincente, sottolinea il presidente Carlo Colombo, tanti nuovi progetti in programma per creare opportunità e aiutare il territorio a ripartire. Spaziamo un attimino dal mondo dell'infanzia ai minori fino alla terza età, passando per il mondo della disabilità, gli educatori scolastici. Però ecco, oltre a questi servizi socioassistenziali, ci piace anche dire che siamo un'impresa a tutti gli effetti e quindi possiamo sconfinare, come diciamo noi, anche in altri ambiti, perché pensiamo che la cura dell'ambiente, la cultura, la gestione del territorio, le manutenzioni, possono essere tutti ambiti che ci permettono anche di mettere in campo nuove risorse e magari creare anche qualche opportunità occupazionale. Ecco, pensiamo di poter essere utili anche in questa fase di ripartenza, di poter dare anche noi il nostro contributo per migliorare il benessere delle comunità in cui viviamo. Lavori in vista sulla Super 36, ANAS ha programmato il ripristino della pavimentazione fra Civateleco lungo la carreggiata nord e dunque in direzione Sondrio. L'avvio è previsto per domani, 23 giugno, con termine entro il 30 giugno. Al fine di contenere i disagi al traffico, i lavori saranno svolti nella sola fascia oraria tra le 21 e le 6. La limitazione sarà sospesa durante le notti fra sabato e domenica e fra domenica e lunedì. Innovativo progetto di orientamento all'Istituto Marco Polo di Colico. Gli studenti delle medie dell'Alto Lago hanno potuto non solo visitare la scuola, ma provare in prima persona laboratori e attività. Una giornata resa possibile grazie ai fondi della strategia Arie Interne. Sono entrati nei laboratori e hanno provato in prima persona quello che potrebbe essere il loro futuro, prima formativo e poi lavorativo. Esperienza importante, quella vissuta dagli alunni delle seconde medie dell'Alto Lago, che hanno avuto la possibilità di partecipare al campus orientativo dell'Istituto Marco Polo di Colico. Nata da fondi messi a disposizione dal Ministero nell'ambito della strategia Arie Interne, la giornata ha coinvolto più di 160 ragazzi accompagnati dai loro docenti e accolti da quelli della scuola superiore. All'interno dell'Istituto i giovani hanno potuto provare i laboratori di fisica e di chimica, operare sugli impianti elettrici ed elettronici, simulare la creazione di pezzi al CAD per vederli realizzati nel laboratorio meccanico, sviluppare un software informatico. Insieme ai professori di educazione fisica, infine, hanno potuto fare un giro delle bellezze naturalistiche del territorio, visitando un agriturismo e conoscendo coltivazioni tipiche. Un'esperienza a tutto tondo che si inserisce in un più ampio progetto di orientamento di alunni e famiglie che hanno avuto l'occasione anche di incontrare le aziende e gli imprenditori della zona. Questi ultimi hanno portato in Aula Magna le loro storie, proposte e necessità, sottolineando l'importanza del rapporto tra aziende e scuola. Solo questa sinergia, infatti, può permettere di formare addetti, tecnici, impiegati, sufficientemente preparati e allo stesso tempo con profonde radici nel territorio. Fino all'11 giugno, gli spazi di Otola a Balecco si animeranno con le performance di danzatori e artisti provenienti da tutta Italia e non solo. Al Via Stile Danza per le Arti, iniziativa ideata da Filippo Bariffi e sostenuta da Asso Cultura Confcommercio Lecco. Per tre settimane, fino all'11 luglio, Otola a Balecco ospiterà artisti da tutta Italia e non solo. Stile Danza per le Arti è l'iniziativa ideata da Filippo Bariffi e sostenuta da Asso Cultura Confcommercio Lecco, un contenitore coinvolgente in continua evoluzione di performance tra danza, scultura, pittura, fotografia e cabaret. Stile Danza per le Arti nasce da una branca di ASD Stile Danza, che è un'associazione sportiva dilettantistica con lo scopo di formare e di accompagnare dei ragazzi nel percorso e nel mondo della danza. Durante il periodo di lockdown abbiamo pensato che fosse bello ampliare quello che potevamo fare noi sul territorio, uscendo da quello che era solo il contesto della danza e della disciplina coreutica, ampliandolo in realtà ad altre arti, ad altri artisti che come noi hanno sofferto il periodo covid come tutti e che adesso hanno ancora molto da dire e molto da raccontare. La cosa bella di questo progetto è che si ha la congiunzione di tanti arti differenti e tanti artisti entrano in relazione per creare qualcosa di nuovo e che sarà sicuramente qualcosa di esclusivo. Dalla carovana di artigian art all'incontro con l'etual di fama mondiale Luciana Savignano, dai workshop e laboratori dedicati ai giovani danzatori al comico Max Pisu. Tanti gli artisti che animeranno Ottolab intorno all'opera centrale I Sette Vizi Capitali, creazione artistica dei danzatori Federica Panzieri e Giordano Orchi. Abbiamo scelto questo spazio proprio per far debuttare il nostro show I Sette Vizi Capitali, che è un prodotto inedito, un nuovissimo show e lo spazio è perfetto per il tipo di creazione che abbiamo avuto in mente. Lo spettatore e il pubblico entrerà nello spazio, nella struttura di Ottolab, percorrerà tutta la struttura, quindi non rimarrà fermo ad assistere ad uno show, ma sarà pienamente partecipe. Girando le stanze, ogni stanza è un vizio diverso, con un'arte diversa. Ci sono 13 artisti, quindi è uno spettacolo ampio e complesso, sarà qualcosa davvero di unico. Stile danza e inoltre partner artistico di WDA Hybrid Tour 2021, la danza racconta l'Italia, il paese della grande bellezza, che farà tappa a Madesimo l'1, 2 e 3 luglio. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo la possibilità di rivedere tutti i servizi andati in onda sui nostri social e sul sito di Unicaleco, grazie ancora, vi auguro una piacevole serata e vi do appuntamento alle prossime edizioni di questo telegiornale. Grazie. 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 Grazie.